facciamo un giro sul monopattino un dinosauro oh no un dinosauro ora sono al sicuro se ne è andato vedo il dinosauro oh no è molto vicino forse non c'è più oh yeah sai costruirò un murio sta diventando alto devo essere molto veloce è fatta questo muro è forte più del forte no il muro è troppo forte mi sa che arriva di nuovo oh no due dinosauri devo scappare nessuno potrà distruggere questo muro stanno arrivando i due dinosauri nascondiamoci oh no stanno arrivando oh no oh no oh no ti prego guarda credo che ai dinosauri piaccia il gelato ora i dinosauri se ne andranno oh yeah oh no oh no oh no oh no oh no oh no dinosauri andate di là c'è un gelato guardate è molto buono andate di là andate pure assaggiatelo i dinosauri se ne sono andati ce l'ho fatta mmm gelato oh no oh no oh no oh no oh no il mio gelato oh no Jason sta piangendo ehi ehi che succede il mio gelato oh non ti preoccupare giochiamo insieme forza dai giochiamo con questi giochi wow sei pronto a giocare? sì sì molto bene inizia tu facile facile livello successivo abbassiamo di un livello ok Jason sei il primo ok oh yeah adesso tocca al più difficile guardate che cosa? è troppo difficile wow ok 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 tocca a me non ce l'avrei mai fatta sì ho vinto wow ma che cosa è successo? wow facciamo un bel gioco giochiamo allora va bene forza partirò io facilissimo oh sì facile ora uno più in basso guardate secondo round partiamo forza ah no perso dai ricominciamo forza vai vai ok ora più in basso ti perderai tutto Alex che cosa? 3 2 1 via wow tocca a me oh mi dispiace oh mi dispiace tanto ci sono avvinto sì ho avvinto sì cosa? prendo un lecca lecca il lecca lecca è mio no no vieni qui forza ti darò il mio lecca lecca quello è il mio lecca lecca all'attacco lui è solo mio il mio lecca lecca non è qui forza ridamelo è mio ragazzi prendiamo il lecca lecca che cosa? il mio lecca lecca dammelo Jason fermati Alex e perché? perché facciamo un altro giro va bene andiamo terzo round giochiamo a nascondino tu vai a nasconderti io ti cercherò ora inizierò a contare 1 2 3 4 5 6 7 8 forza troviamo Jason Jason mi dici dove sei? dove sei? dove sei? beh forse è dietro l'arcobaleno? no non è qui ma potrebbe essere proprio qui dietro che ne dite? no Jason dai dimmi dove sei? dove sei? dove sei Jason? fenicottero sai dove è Jason per caso? no Jason dove sei Jason? non riesco a trovare Jason aspetta un attimo credo che Jason sia qui 1 2 3 mi hai trovato scappo via ora mi nascondo io bene contiamo 1 2 3 4 5 Alex dove sei? oh yeah è dentro il fenicottero no forse è sotto il lecca lecca no forse è qui dietro no potrebbe essere lì dietro non c'è ma c'è un altro nascondiglio ed è proprio lì guardiamo un po' può essere lì dietro ecco ti qua mi hai trovato Jason mi hai trovato non ci credo sì l'ho fatto è stato divertente batti 5 ciao ciao ragazzi ciao ciao vendo frutta vendo frutta vendo buona frutta come? non arriva nessun cliente? ragazzi guardate ehi vogliamo la frutta signore signore smetta di dormire oh ciao ragazzi che cosa posso fare per voi? io voglio un bel po' di anguria chiaro? perfetto te la porto subito ed ecco a te l'anguria e voi che volete? scegliete pure amici banana ecco a te delle sane banane arrivederci arrivederci ehi ciao cliente e tu che vuoi invece? voglio tantissimi biscotti qui non vendiamo biscotti solo frutta buonissima frutta sana per voi guarda qui che buone le fragole tutte per te che buone che sono le fragole ciao ciao ragazzi arrivederci che bella giornata ehi ragazzi dove avete preso la frutta? ok grazie ragazzi ciao 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 posso ordinare? oh che cos'è questo? proviamolo oh che c'è? posso ordinare della frutta? ma certo che cosa vuoi? ehm voglio una mela ok quante mele vuoi? una, due o tre? voglio una mela una mela ecco a te grazie c'è di che ciao ciao oh no mi è caduta la mela oh no è sporca devo tornare indietro che cosa è successo? la mia mela è sporca fammela vedere bene oh guardate ragazzi va bene non ti preoccupare ti aiuterò ed ecco una nuova mela per te davvero? certo sì wow ho una nuova mela grazie è stato bello aiutarti ciao wow questa mela è proprio sporca la laverò mi sa adesso la laverò molto bene wow ora è pulita sì wow oh wow ehi ciao sta dormendo ciao posso ordinare tutti i tuoi frutti? naturalmente ti porterò tutta la frutta ok eccola qui c'è tutta la frutta che ti serve oh oh wow c'è tutta la frutta che voglio e sembra davvero deliziosa buona ciao ciao oggi ho venduto tutta la frutta che ho beh vado a dormire adesso ehi ragazzi vi insegnerò la frutta questo è un caco un'anguria una banana dell'uva una mela un'ananas e una fragola per non dimenticarci dell'arancia ti è piaciuta la frutta? aspetterò un altro cliente adesso iscriviti al canale